pace grazie buongiorno a tutti l'ultimo versetto del capitolo 5 romani capitolo 5 versetto 21 affinché come il peccato ha regnato nella morte così anche la grazia regni per la giustizia a vita eterna per mezzo di gesù cristo nostro signore e qui una nuovamente andiamo a confermare il fatto che la grazia regna per la giustizia a vita eterna non è vita temporanea non è una cosa che tu ricevi temporaneamente basta che te la meriti e che poi dio se la riprende se per caso tazzardi a peccare troppo no il peccato ha regnato nella morte la grazia regna per la giustizia a vita eterna quindi basta il momento che tu accetti la grazia di la grazia di gesù cristo che è legata la sua giustizia che è legata alla sua vita alla sua vita eterna che è legato al perdono eterno tu ricevi la vita eterna non temporanea eterna eterna vuol dire che non ha inizio e non ha fine la vita stessa di cristo diventa la tua e tu vivi per sempre salvato perdonato giustificato lavato amato e una volta per sempre